Grazie a tutti. 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 di consulato per fare lo sbarco. Ogni settimana io ho chiamato il signor Angelo D'Amato, l'amministratore delegato, e mi dicevo che stiamo facendo le pratiche, alla fine mi ha detto che la vendita è stata effettuata. Ieri ho chiamato per sapere la situazione e mi aveva detto che si era aperto uno spiraglio a livello per i visti, per lo sbarco. Sono messi di apprezzione questi per la vostra famiglia? La mia famiglia, si immagini, mio figlio è imbarcato da 23 settembre 2020, poi c'è un allievo di coperta che è imbarcato a novembre, indipendentemente, poi ci saranno altri 4-5 ufficiali a bordo, sicuramente non so chi siano, il consulato, le autorità cinese non avevano dato il visto. Ho fatto ripetuti email al consulato e il primo email di risposta del consulato di Shanghai, che è di competenza, diciamo, di Shanghai, mi ha risposto che la nave che si trova attualmente in quel porto là non è un porto predefinito per lo sbarco di equipaggio. In questi mesi lei è riuscito a comunicare con suo figlio? Certamente, anche stamattina, tutti i giorni, mi ha detto, 3-4 giorni fa, si è aperto lo spiraglio e noi pensiamo per il giorno 3 di giugno, dato che il 2 di giugno è festa nazionale del lavoro, il 3 di giugno noi riusciamo a far sbarcare almeno suo figlio, poi le altri il giorno 8. E invece suo figlio come sta vivendo questa situazione? Psicologicamente, diciamo, è in uno stato proprio di depressione, diciamo, non si riesce, diciamo, perché non si riesce a capire, a dire una verità. Che appello vuole fare alle nostre telecamere? Io voglio fare un appello ben preciso, indipendentemente che noi siamo soggetti alle leggi, diciamo, del governo, ma ci sono, ma sono italiani, sono otto mesi che stanno a bordo, non hanno visto faccia di nessuno, Covid non ce n'è perché sono saliti il 23 di settembre, basta, e sono rimasti là. Adesso il visto non si riesce a avere perché la prima email, il consolato di Sciangami ha detto che quel porto là non possono sbarcare, ci sono altri porti predefiniti per poterli sbarcare e questo equipaggio, diciamo, chi lo deve prendere per portarlo là? Chiusura per la Villa Comunale Salvo d'Acquisto. Questo è quanto deciso dall'ordinanza dei giorni scorsi, annunciando i lavori di manutenzione e ripiantumazione che si potrarranno per circa 40 giorni. Una scelta in parte condivisa da parte dei cittadini, che invocavano da tempo interventi per riqualificare la zona. Dubbi e perplessità, invece, sulle tempistiche dei lavori. Secondo l'opinione dei torresi, infatti, si poteva intervenire nei mesi precedenti, caratterizzare dalle chiusure e dalle restrizioni. Lei cosa ne pensa? Il lavoro di manutenzione va bene, ma se l'hanno chiuso per non far andare le persone, non penso che sia giusto, basta disinfettare, sanificare e possono andarci tutti, no? Si poteva magari agire nei mesi precedenti quando... Quando siamo stati chiusi in casa, si poteva approfittare per bonificare i rintorni. Ci volevano, diciamo, dei lavori di sistemazione, quindi, cioè, per riqualificare la zona, secondo me, era necessario qualche lavoro di restauro, insomma. È un peccato però che con l'arrivo del bel tempo si sia chiusa, no? Un'area così aperta, magari per portare i bambini dopo mesi difficili, insomma. Sì, questo sicuramente, però spero che i lavori durano poco, ne potremmo approfittare di quello poco spazio all'aperto che abbiamo per i bambini. Lei cosa ne pensa della chiusura della villa? Sto bella lì, non solo che vuole, non è chiuso. Come fa? È un peccato, no? Proprio adesso che si stava riaprendo, con l'arrivo del bel tempo. Sì, uno va là, si mette a fare la gommonata, in Anzaret, come fa? Sì, sono da fare un'altra. Poi sono inizioni manutenzioni, più altre cose. Anche se è un peccato, no? Che si è chiusa la villa in arrivo del buon tempo. Abbiamo una cosa bella, però non ci si poteva fare niente. È proprio in questi momenti che la gente aveva bisogno di un po' di libertà, i bambini che stanno chiusi da un anno e mezzo. Cioè, ma quale volontà l'ha partorita questa cosa? Quale assessore, il sindaco, chi l'ha partorita? Se è vero che sia per lavori, mi sta bene, perché poi la villa ultimamente era andata un po' integrato, quindi va bene che faccia una cosa del genere. Però speriamo che la aprano presto, perché adesso vengono le belle giornate. I bambini hanno finito di andare a scuola, il pomeriggio si regavano tutti lì a giocare, a prendere un po' di altre cose. Quindi questa è la questione. Speriamo che facciano presto. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamando al numero 340 6561484. Con questo è veramente tutto. Buon fine settimana. L'informazione di TV City vi dà appuntamento a lunedì. Buon fine settimana. Buon fine settimana.